Tutto esaurito giovedì sera al Maggiore di Verbania per il concerto benefico del Pop Coro Music Show organizzato da Lions Club Verbania. Una serata divertente ed entusiasmante per i presenti che insieme alle voci degli artisti del Pop Coro hanno cantato brani intrati dalle colonne sonore di alcuni dei film e delle serie tv più conosciute come Top Gun, Flashdance, Il Padrino, Grease e Happy Days e per concludere si sono lasciati coinvolgere in un momento di omaggio alla grande Raffaella Carrà che ha dato il via a 10 minuti di balli nei corridoi del teatro e nel suo proscenio. Ringrazio tutte le persone che hanno affollato il Maggiore, gli sponsor che ci hanno supportato in questa iniziativa, il Comune di Verbania che ci ha onorati con il suo patrocinio e il Pop Coro che come sempre ha dimostrato generosità e disponibilità, ha commentato Roberto Porini, presidente del Lions Club Verbania. Le nostre attività di raccolta fondi non si fermano qui e nei prossimi mesi abbiamo in programma di organizzare altre iniziative a sostegno della nostra comunità, ha concluso. L'obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di un'ambulanza da donare alla delegazione verbanese della Croce Rossa. In questo spirito tutto il ricavato della serata, diverse migliaia di euro, sarà devoluto a tale scopo. Dopo il supporto dato all'organizzazione della cena sotto le stelle di inizio ottobre, il Club di Servizio Verbanese, in occasione dei suoi 60 anni, ha organizzato questo secondo appuntamento per poter continuare la raccolta fondi necessari per finanziare l'acquisto dell'ambulanza. Il pop coro nasce a Cannero nel 2014 e conta oggi più di 30 elementi sotto la guida e la direzione artistica di Barbara Billet, pianista, cantante e maestra di canto, e di Paolo Frigerio, musicista ed autore.